Cara Millie, di nuovo sono senza voce, però ormai quest'anno sono abituata così. Allora, a me piace tantissimo questa edizione, ho imparato tantissimo come tutti gli anni. Quello che mi è piaciuto quest'anno è il percorso di tutti i concorrenti che hanno fatto questo approccio al mio mondo di ballo e a Ballando con le Stelle giustamente. La cosa che mi stupisce ogni anno è che ogni concorrente si scopre se stesso attraverso il ballo e per me è una cosa che veramente che riempie il cuore, perché dà un bel messaggio e diciamo che fa capire la potenza del ballo che deve essere diffuso in tutto il mondo. La danza e la musica è una terapia e fa veramente bene l'anima. Grazie, grazie, grazie sempre per questa esperienza e spero che la voce mia torna il più presto possibile. Ciao!